In questa lezione andremo a vedere un altro programma della pacchetto Substance, ovvero Substance Stager, che ci permette di creare appunto delle scene, come vedete, che possono essere scene di interni o, diciamo, delle piccole scene di arredamento o anche di esterni, insomma, qualsiasi cosa vogliamo andare a ricreare, anche per esempio per quanto riguarda sempre il tema del product design, industrial design. All'interno di Substance Stager troviamo tantissimi modelli già pronti, troviamo anche delle primitive che possiamo utilizzare per impostare appunto la nostra scena, possiamo trovare dei materiali, delle luci e poi possiamo tranquillamente lavorare in comunicazione con Substance Painter, ovviamente, perché fanno parte dello stesso pacchetto. Quindi nelle lezioni precedenti abbiamo sperimentato e abbiamo concluso la parte riguardante Substance Painter, in questo video entreremo all'interno di Stager e vedremo, diciamo, tutta quanta la sua interfaccia, quali sono gli strumenti più importanti. Stager, recentemente era chiamato Adobe Dimension, invece appunto recentemente è entrato a far parte proprio di un pacchetto. E, diciamo, la caratteristica di Dimension e di Stager è quella di essere un programma molto semplice da utilizzare per assemblare una scena utilizzando appunto modelli, materiali, luci, molto simile. Non possiamo creare, diciamo, e modellare all'interno direttamente di Dimension o di Stager, quindi possiamo solo andare a assemblare la scena utilizzando oggetti, prodotti, grafiche, texture che possiamo prendere da altri programmi e portarle all'interno. Esistono appunto programmi molto simili come per esempio Twinmotion, molto popolare e anche questo in grado di sviluppare interni, esterni, visualizzazione del prodotto, visualizzazione architettonica e via dicendo, o anche per esempio sempre con questo schema di facilità di utilizzo abbiamo Enscape o anche Vantage, i Chaos Group, quindi sono tutti programmi abbastanza simili, nonché poi abbiamo tutti i motori di rendering che vanno, ripeto, a lavorare principalmente con luci, materiali e rendering. Quindi per utilizzare Substance Stager dobbiamo aver acquistato il pacchetto di Substance e appunto qui già nella lezione precedente abbiamo fatto un'esportazione direttamente da, partendo da Substance Painter e abbiamo importato all'interno di Stager. Quindi prendendo tutti i materiali, le texture, gli effetti applicati nel lavoro all'interno di Painter con noi all'interno di Stager. E questo, vedete, è un altro esempio. Il file di Stager è contrassegnato con la dicitura SG nella piccola icona e il formato in questo caso è SSG, mentre il formato di Painter abbiamo visto è SPP. Quindi in questo caso vado ad aprire facendo semplicemente doppio clic sul file, altrimenti possiamo aprire il programma direttamente da Creative Cloud. Quindi dovremo ovviamente prima aver scaricato, installato il programma e possiamo farlo partire anche appunto direttamente dal pannello Creative Cloud o anche dal sito Creative Cloud e quindi andiamo a vedere velocemente l'interfaccia e cominciamo subito con la navigazione. La navigazione è simile a quella di Substance Painter, quindi se tengo premuto Alt posso cliccare con il sinistro per orbitare, posso cliccare con il pulsante centrale o la rotella del mouse per effettuare panne, con il destro invece del mouse vado a fare uno zoom. Quindi i pulsanti appunto molto simili a quelli che troviamo in Substance Painter e poi troviamo anche qui a lato, vedete, i pulsanti di navigazione, quindi orbitazione, zoom e panne. Risalendo abbiamo la possibilità di aggiungere e importare del contenuto, già questa è una grande differenza rispetto a Substance Painter dove noi siamo vincolati diciamo a una scena, invece noi qui possiamo importare all'interno della scena non solo diciamo delle immagini di sfondo, quindi HDRI, environment, o possiamo importare immagini come delle luci o un materiale, ma possiamo prendere o posizionare un'immagine direttamente su un modello, ma possiamo prendere proprio un modello 3D per il proprio, quindi posso andare a prendere i modelli in tutti questi formati che vediamo qua, quindi un po' come abbiamo fatto anche già in Substance Painter e posso inserirli quindi all'interno di Stager, quindi andiamo a vedere qua per esempio su exported, quindi qui ho esportato ad esempio in un formato USD, questo formato è comunque leggibile da Stager, perché è una, diciamo mette in comunicazione comunque i due programmi, ma come vedete posso anche esportare in formato FBX o in altri formati 3D. Cominciamo con Stager, ogni volta che apriamo o importiamo ci viene chiesto se vogliamo includere dei materiali non utilizzati, questo non conviene, e se vogliamo generare delle mappe UV qualora non ci fossero appunto su parte del modello. In questo caso non facciamo né una. L'altra cosa, qui vedete sulla destra, proprio come in Substance abbiamo una sorta di navigatore della scena, un esploratore della scena dove possiamo vedere quello che importiamo, e anche qui vedete che, ok, vedete che in questo caso ho importato la lezione sull'alieno, e quindi ho a questo punto la possibilità di gestire questo oggetto, posso spegnerlo, accenderlo e utilizzarlo all'interno di questa scena, quindi posso assemblare delle scene prendendo vari modelli, non solo appunto un solo modello come facevamo in Painter. Se volete utilizzare i stessi modelli, questo è il modello utilizzato anche nel video precedente, dove abbiamo scaricato in formato FBX, potete anche inserirlo direttamente all'interno di Stager senza passare per Painter, se volete utilizzarlo, per quanto riguarda l'alieno invece basta cercare appunto Alien, e in questo caso chiamato Alien Ominid, e anche qui abbiamo le varie informazioni, anche qui FBX o anche possiamo importare in GLTF. Ok, questo ovviamente giusto per cominciare, dopodiché oltre tutti i modelli che possiamo importare, abbiamo anche qui uno starter asset e delle librerie. Le librerie fanno parte delle nostre librerie che possiamo creare partendo da Creative Cloud, quindi in questo caso vedete che ho delle librerie per esempio di immagini o di After Effects, gli starter asset invece sono proprio degli elementi di Substance Stager che possono servirci per cominciare a lavorare. E come vedete ci sono delle forme molto semplici, qui ci sono dei modelli che possiamo utilizzare per esempio di confezioni di design del prodotto, di nuovo packaging o appunto design industriale, merchandising, quindi delle buste, dei bag o dei capi d'abbigliamento, degli accessori, quindi tutto quello che ripeto più o meno abbiamo visto anche all'interno di Substance Painter. E qui invece ritorniamo con materiali base, vedete che qui abbiamo la possibilità di utilizzare anche il vetro, cosa che invece non era possibile vedere, visualizzare nel rendering in Substance, quindi abbiamo sicuramente un motore di rendering appunto un pochino più performante da questo punto di vista, vedete che qui riusciamo già a vedere l'effetto della trasparenza, qui in alto dove leggiamo Ray Tracing e dove possiamo attivare il motore di rendering più avanzato, quindi quando vogliamo renderizzare una scena a livelli più alti, e qui accanto abbiamo i settaggi di rendering, vedete in questo caso sto utilizzando il Ray Tracing, abbiamo due motori di rendering, uno in tempo reale, real time, un altro Ray Tracing, qui possiamo aumentare il numero di campioni se vogliamo aumentare la qualità, qui possiamo personalizzare o utilizzare dei presettaggi, quindi per la qualità, e nel momento dell'esportazione possiamo utilizzare il denoise, che serve per togliere un pochino di questo spuntinamento. Come funziona un motore Ray Tracing? In generale funziona in maniera progressiva, cioè più lascio la scena ferma a renderizzare, e più qualità otterrò dal rendering, quindi più aspetterò, diciamo, senza fare nessun'altra azione, e più poi avrò un effetto migliore finale, insomma, della renderizzazione. Quando voglio fermarmi, anche perché questo affatica un po' il computer, spengo e ritorno a modalità rendering real time, che come vedete, diciamo, non è così malvagio, ma sicuramente non è una qualità come quella del Ray Tracing. Scendiamo ancora di più e vediamo materiali che appunto si prestano sicuramente di più per un discorso di architettura, in molti casi, rispetto a quelli che troviamo di base in Painter, ma come vedete abbiamo appunto anche qui tantissime tipologie. Qui possiamo anche cambiare la visualizzazione, quindi vedendo un materiale già in anteprima, oppure vedendo i vari asset con una semplice lista. E abbiamo anche appunto materiali traslucidi, specchianti di vetro, quindi glass. e poi anche con un disturbo di farina. class andati